Raoul Folero era un poeta, un giornalista, un resistente, uno di quelli che seppe vedere in volto e capire il male assoluto del nazionalsocialismo nel momento in cui insieme al fascismo insidiava le libertà d'Europa e la pace mondiale. Era un uomo che faceva il suo mestiere con passione e competenza. Quando per la prima volta andò in Africa e quasi per caso si ritrovò ai bordi di uno stagno e vide uscire dal folto degli alberi una folla di persone indescrivibili, con la carne lacerata e mangiata dal male, la lebra, il male che pensavamo dimenticato e vide la fame da cui erano divorati tanto quanto dal male, questo poeta e giornalista cambiò la sua vita e al centro di tutto mise alla missione di porre fine alle sofferenze di coloro che vengono colpiti da questa malattia antica e inesorabile che oggi come ieri in tante parti del mondo spinge ai margini del consorzio civile. La sua lunga battaglia ha portato a salvare un milione di persone, chiese in vano ai grandi del mondo, allora ai capi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica di sacrificare ogni anno il valore di un loro bombardiere per curare i malati e sarebbe bastato anche solo quello. Ha raccolto un'infinità di soldi, i suoi amici, quelli che continuano la sua opera, insistono su questo percorso, la battaglia non è ancora finita, i grandi del mondo non hanno mai saputo sostenerla come avrebbe meritato, c'è bisogno che ognuno di noi faccia la sua parte ancora oggi.